no salve a tutti ragazzi belli e brutti iscritti minuti bentornati su giova che dispo io sono giovispò questo è il romano rotto glory in divisione 1 scusate se vi sto facendo vedere la fine della seconda partita bene sì la seconda partita vinta per 2 a 1 ma purtroppo oggi il tempo era un po' così e così questo addirittura il sole vabbè e purtroppo mi ha dato perso mi ha fatto perdere i dati della prima partita ed è gran parte, anzi tutta la seconda partita quindi la prima partita l'ho vinta e quindi ho ottenuto la salvezza nonostante la partita di prima è successa il fatto della disconnessione ma mi ha dato come vittoria e quindi ho ottenuto 10.500 crediti per la salvezza in divisione 1 la seconda partita questa l'ho vinta giova 1 quindi altri 3 punti in divisione 1 volevo ricordarvi che se avete bisogno di crediti andate nel sito qui sotto in descrizione fifa going zone fa dei prezzi veramente ottime attraverso il codice comando giubispo otterrete il 3% di sconto su tutti i vostri ordini intanto qui pareggio al 45esimo 1 a 1 molto bene poi il secondo colario con pierre emenic obamianc finisce così quindi anche questa 2 a 1 vittoria un'altra vittoria seconda vittoria di fila se non terzo o quarta non mi ricordo dettagli dettagli e poi incontriamo questo abbiamo starrich toz gerra toz matiz matiz toz max piccoleta toz tiago silva toti al novantesimo finisce il 0 a 0 cioè il mio portiere è stato davvero fenomenale in questa partita non rincazio non rincazio 9 davvero ho parato davvero tanti tiri però anche i miei giocatori hanno sbagliato davvero parecchi tiri infatti i tiri in generale erano 11 pari ma però ma però non ci poteva vedere però i tiri del mio avversario erano di più importante come dovrebbe essere l'ultimo la penultima non mi ricordo come penultima partita mi sa incontriamo questa italiana arriva subito arriva il gol nel secondo tempo 75esimo sull'area spinta del tiro di Goetz Müller non perdona poi arriva anche il 2 a 0 l'ottantunesimo con Robben il suo mancino non perdona mai poi volevo fare un altro gol con Adler ma è andata proprio di poco fuori porca troia si era più dritta per dritta dritta per dritta e sarebbe stato meglio finisce 2 a 0 diciamo abbiamo ottenuto in 5 partite 4 vittorie un pareggio niente male ciò che ci presuppone anche bene per per la conquista del titolo e quindi questo episodio super veloce si conclude subito mi scuso in anticipo con tutti se questo episodio raggiungerà supererà i 30 likes 30 caricherò il prossimo episodio mi raccomando continuate a seguire anche sulla pagina facebook perchè ci saranno altri pink slips si ci saranno altri pink slips ebbene ragazzi l'episodio ci conclude spero vi sia piaciuto se vi è piaciuto lasciatome un pollice in su iscrivetevi al canale se siete già iscritti qui è già bispo vi saluto vi ringrazio ci vediamo domani con un nuovo video ciao bella a tutti e al prossimo video